Ma pure quella di prima hai registrato? Eh, in realtà sì Dopo, quando siamo in griglia prima di partire Guarda, per l'ossessione mi sono messo a registrare anch'io Quando siamo in griglia prima di partire dovete farmi un favore dovete fare tutti un saluto a Leo Culo Bene Sarà fatto Perché dopo lui lo vede su YouTube è tutto contento Va bene Nessun problema direi I romanisti si accontentano di queste cose qua Uff Tutto a fatica per niente Ho fatto le dieci e mezzo Neanche in bestemmione Che dieci e mezzo sono le dieci e cinque Ma se avanza il uso orario lì La ro? Sì Ma lo faccio sbagliare Però una certa ho sentito Tito, mi raccomando, metti da parte le emozioni Adesso ci sono avrabbiato perché Roberto non c'è nato soddisfazione Che è? I box? No, ma ha cambiato visuale Non c'è Grazie a tutti. 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 No, non l'ho visto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 con il grz. ma il grz. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. che rientra. a tutti. ma... a tutti. 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 tutti.